Il 30 agosto parte la nostra settimana medievale con i giochi in piazza, il 31 non avremo nessuna attività per via del mercato di Sant'Egidio. Il primo comincia la settimana medievale vera e propria con una conferenza di approfondimento che sarà tenuta, spero abbiamo invitato uno dei più grandi medievisti italiani a livello d'Europa, spero che ci confermi la sua presenza. Poi martedì ci sono altre iniziative per i bambini, teatro per ragazzi, teatro di narrazione. Da mercoledì a domenica compresa, quindi dal 3 al 7 di settembre, tutte le sere il mercato medievale internazionale nel quartiere Lanciano Vecchia. Sono i percorsi di storia, cultura ed enogastronomia all'interno di uno dei quartieri più belli di Lanciano. Quest'anno la novità è che ci sarà anche domenica, perché come tutti sanno il corteo storico chiude intorno alle 20 e 30 e quindi poi c'è tutto il tempo di fare una passeggiata nel quartiere Lanciano Vecchia per comprare qualcosa o per degustare qualcuna delle prelibatezze presentate da noi e dagli amici tedeschi nella piazzetta di San Lorenzo. Venerdì e sabato c'è l'appuntamento tradizionale con la Panarda, sempre al chiostro del Polo Museale Santo Spirito di Lanciano, la prenotazione è obbligatoria e domenica il corteo storico in costume per le vie della città vecchia quest'anno. C'è questa novità del corteo che cambia percorso, per forza maggiore siamo costretti a cambiarlo. E' ancora in via di definizione, lo comunicheremo con tutti i mezzi a disposizione, radio, tv, carta stampata e stamperemo anche dei programmini, dei volantini per informare nel modo più capillare possibile la gente di questa variazione. Sicuramente il Mastro Giurato è una manifestazione storica, non più lancianese, europea. Questo lo dimostra il fatto che Danilo Marfisi, presidente dell'Associazione del Mastro Giurato, diventerà presidente della Confederazione Europea a ottobre. Questo è un riconoscimento che cancella qualsiasi sospetto di autoreferenzialità che questa manifestazione qualche volta ha subito attraverso qualche critica. Il Mastro Giurato è un tesoro d'Abruzzo e una manifestazione che ha una forte radice storica, non è folclore ma è storia. Sono molto emozionato e nel suo tempo onorato di far parte, di impersonare questo personaggio che è prestigioso e che dà lustro alla città di Lanciano dove io sono nato. Il Mastro Giurato è una persona seria e io è prestigiosa. Hanno scelto a me che invece sono un umorista, però io ho conosciuto e collaboravo al Travaso e Guglielmo Guasta, che era il direttore, mi diceva Lucio Ricordi che l'umorismo è una cosa seria.